Io sono il Giardinievi, ed ora studierò qualche pianta! E quello cos'è? Ah, è solo erba! Cos'è? Sembra monstera deliciosa! Ah, tempo di tastare il suolo! Sì! Mmm, roba buona! Mi scusi, lei ha visto le mie... Questa? Io avrei già detto te! No fumare! Sono arrabbiato! Prendi questo! E questo! Ma che... Avrei dovuto farlo molto tempo fa! Sinistra! Sinistra! Giù! Giù! Destra! Su! 10.000 colpi! Al secondo! No! Oh no! Eh... No! No! Guarda! Oh mio Dio! È la ficus elastica! Spia! Io ti adoro! Ah, merda! Votenne via! Oh no! Ciao ragazzi, volevo ricordarvi che il giovedì sono in live alle 21 sempre su questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, lasciate commenti, attivate la campanella e abbonatevi se volete. Ciao!